Allora, russac, macchine fotografiche e ghiacchette, salvez di essi più freddi che cadino. Allora, venite con me e vigli. Allora, venite con me e vigli. Ieri va della giornata, ma sarimmo e ridate. C'è un bravore che io ti dico, la mia tua parenti amici. Tutti insieme in vecchiazute, scoltarimmo e storiute, con ticxux e musdidi. Ogni dì si fa così. Mardi Daria O sei Samuel e occhiali sempre mamma. Ho imparato ogni volta le cose nuove. Mi contare se tu al di Pasqua al mondo. Mamma, mamma di Samuel. Ma mi credi tu che sei proprio da ora a fare un giro a Torpa al mondo. E, stand che il periodo ha le proprie tecchelle giusti, ho deciso che o darai un cuoc per vedere un caffasino a Pasqua a Torpa al mondo. Ben con me! Froos! Prima etappe, Romania. Orpo! Ma... C'è solo da ora fa che hai l'aiuto? Mi pare che sei di una battaglia di uffs. Ahahahah! Sì, sì! Hai un campionato, lì che partecipano tutte le famiglie e gli amici. Siamo di tirare uffs d'ur su un quinto di quell'altro. L'uff, con la scusa più dura, ha il vincio. E qui calpierta la di mangiarsi tutti gli uffs che si sono rossi. Ma in Romania si fanno anche un'altra roba. La di dopo di Pasqua si lavissi la musa e i culaghi. che si lavissi la scusa di un uffs pitturato di ros e una moneda di arint. L'uff al rappresenta la salute e la moneda la purezza. Seconda etapa, Germania. C'è un'altra cosa che si lavissi la Pasqua, ci sono i pesanti, chiamati Brun Donnerstag. Venga a stai giornate, li cammangin, domen robis verdis. Il plat più rappresentativi è la sope con i seti erbi che sono cresson, tale, sottive, savors, cuarvert e spinnage. I todeschi adecorano anche gli arbi che sono colorati. Arbi di Pasqua che per todeschi si chiamano Osterstrauch. La terza etapa, Spagna. In tante città di Spagna e in Andalusia, li sconfraterniti a fase in processioni e rappresentazioni teatrali per tornare a vivere le stazioni di via Crucis di Cristo. Mi viene in mente che le stesse cose le fanno anche a Cicunins di Feagne e non Dome. Anche dal vostro Paese, Fruz. Quarta etapa? Stasunis! Una cosa che vuole simpatica e differente dal solito è leg roll. Parfurla, l'uff che ha il rodole. All'è un evento lì che un gruppo di frutti che fa il rodolaio e l'uff in una gara di velocità. E allora succede che vanno dai voi dal Presidente, dai Stasunis e dal giardino delle Chiase Blanche. come mi è venuto in mente che... Ultime tappe! che? O sì? A Cicunins! Sì, o sì a Cicunins! A Cicunins! A Cicunins! Il lunese di Pasqua o fa scorrere i uf dal giardino di Chiase. L'ho fatto anche altri frutti. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O volevo fare una dedica? mandait a mamma caiut sportelfurlan.eu o mandait un Whatsapp a tre siete un quattri siete doi nuf zero doi doi o le arei due in trasmission Facciamo un gioco vediamo se si visse c'è cosa vediamo al mondo In Germania attacchiamo a festeggiare la joibessante con la gru Donnerstag le chiamano cose di qual colore? A gris B verd C giall La joibessante chiamata in Germania gru Donnerstag si mangia in robis dove verdis La risposta è giusta e ieri è la lettera B in Romania in Romania facendo battaglie di uv durs cui vinci altaceste battaglie? A cui cala l'uf cu la scuse plui dure? o B cui cala l'uf cu la scuse che si rom subit? Al vinci cala l'uf 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 cu la scuse plui dure beh vi ho indovinato un brazo un uv si clamava Tony Nutt di lavoro al faceva il postino ma invece di portare gli letteri al portare gli uv di Pasche unedì però arriva a chiasa di Margarita e come sempre gli consegna l'uf di Pasche la dì dopo e ieri è Pasche Margarita va a viergi l'uf ma dentro non gli era la sorpresa ma gli era un po' leggiù Margarita maraveade e decidi tigniluintecort passade la Pasche alcuni inut al torna a chiasa ma passam di lì al viott il po' leciutta al giardin di Margarita allora si domande c'è cal Fasche il po' leciutta lì in quel momento e ben fur Margarita ed è grazie che tu mi as portato un po' leciutta alle tannini e duc si sommetusa ridi una dì Pieruta al valli dal scalettir e i domande ehm cal scusi poter essi ove un uv di cioccolate per Pasche e il scalettiri dìs sì sicur ma lui vuoi stu gran o piccol e che l'altra risponde mmm medi lui ho manco il gran come il socchiaff ma cun alch dentri sulla confezion dall'uff di Pasche alle scritti consumalo dentri dal mese di lui ahahahah ho fatto già fatura alla santo cutto per di dopo io no? 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 , no? 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 no scarpez, nanchianei in i braccialez, no profudi macchinutis, guarda e glas, o mascarutis, o buei che attaggia, tu lo sass, un biel mont, fat sol di pass. Ale un sium ben, ben platà, vive un mont, plen di bontà, qui ne fass che io lo dis, ai pari che hai abris. Ale un sium ben, ben platà, vive un mont, plen di bontà, qui ne fass che io lo dis, ai pari che hai amici. Fas in fieste, lì scolombis, mai plui guare, nanchi e bombis, di onde amor, ventrida alcun, la sperance, mai nomun. Fas in fieste, infame, tu lo sass, un bambi che hai abris. Fas in fieste, lì, 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 bui ne fass che compagnia. Ale un sium ben, ben platà, vive un mont, plen di bontà, qui ne fass che io lo dis, ai pari che hai amici. Ale un sium ben, ben platà, vive un mont, plen di bontà, qui ne fass che io lo dis, ai pari che hai amici. che hai amici. Vigli, ha studiato? C'è tante stradezioni che sono a torpa al mondo di lunghe Pasche. Ha sommato anche un'evole a chiesa dal nostro friù. Ebbene, a me mi piace un gru la battaglia d'aiufs che si fa in Romania. E pare un'evole divertente. E quale è la tradizione che ti è piaciuta di più a te? Sei curiosa. Ah, la gru la giornata. Venga stai, la giornata è lì che si mangia in dome robis verdis. O sei sicura che a te ti piace? No, dome, perché a te ti piace non vuole il colore verde. Ma ti piace per via che... Per via che tu sei il solito mangiò? E' goloso. Vigli, come non si mangia. O veng di là fa un tic di allenamento che lunis di Pasche o veng di là da ur della nostra tradizione. O tirin us d'ursta al prato come che fossi un burrellis. E' goloso. Dai, a ning, vigi. Vigit con no. Mamà. Ciao. Ciao Anche Non sta a piedi di papà, non stanza lontanlontan Sta a fare con la mamma, dove lui vieno gran fulano Non sta a piedi di papà, non stanza lontanlontan Sta a fare con la mamma, e non stanza lontanlontan Sta a fare con la mamma